Ciao, volevo parlarvi di questo software che si chiama ebsynth e che permette di sostituire un video con una seconda versione dipinta, diciamo. È abbastanza spiegato qui sul sito, si può scaricare facilmente cliccando su download e il file viene scaricato. È un file zip, quindi non serve installazione, basta aprirlo in una cartella. È ancora in beta, è del tutto gratuito per ora, basta eseguirlo e questa è l'interfaccia. È molto semplice, diciamo, perché bisogna in realtà preparare un po' di materiale prima. Allora, che tipo di materiale? Come funziona? Vi mostro questa animazione che ho realizzato appunto con ebsynth. È ottenuto a partire da un filmato. Questo è il filmato originale, quindi c'è lo schermo verde ma non è del tutto necessario. Ho esportato tutte le immagini del filmato in una cartella apposita, quindi io l'ho fatto utilizzando Blender, potete usare qualsiasi altro software. Dopodiché bisogna disegnare per i fotogrammi, quelli che interessano, diciamo, bisogna crearne la versione disegnata. Quindi vedete, questo è il fotogramma 4 ed è perfettamente corrispondente a questo fotogramma 4. Perfettamente sovrapponibile. Cosa farà ebsynth? Ridisegnerà questo disegno basandosi su questo fotogramma a seconda degli spostamenti nei fotogrammi successivi. Quindi quando qui il movimento nei fotogrammi successivi, ma anche nei fotogrammi precedenti, potrà essere, diciamo, interpretato, questi elementi verranno spostati al posto giusto. Chiaro che ad un certo punto bisognerà ridisegnare. E infatti io, per esempio, ho ridisegnato al fotogramma 22. Questo è il fotogramma 22, che di nuovo è perfettamente corrispondente. Queste qui sono le informazioni che dobbiamo fornire a ebsynth, la cartella con i keyframe, cioè quelli disegnati da noi, e la cartella con il video originale. Dopo, volendo, c'è la cartella mask, dove eventualmente c'è la maschera per tagliare via lo sfondo. Però è del tutto facoltativa, si può anche non usare. Nel mio caso ho realizzato questi disegni come png trasparenti. E quindi, essendo dei png trasparenti, il risultato di ebsynth sarà comunque un png trasparente e sarà quindi possibile sovrapporlo facilmente ad altri elementi. Ebsynth, quindi, produrrà varie cartelle, ognuna con il nome del keyframe di partenza. Quindi vedete, out004 sono quelle fatte con il mio disegno al fotogramma 4, quelle col 22 e quelle fatte col fotogramma 22. Se entro, vedo che il fotogramma 4, che è questo, l'originale, è stato usato piano piano per arrivare fino al fotogramma 1, all'indietro, e vedete che qua cominciano già a esserci dei difetti, e poi in avanti, proseguendo, ha seguito il movimento, e ovviamente, appunto, vedete, da un certo punto in poi alcune informazioni mancano, perché nel fotogramma 4 il personaggio qui non ha la parte del fianco, perché non si vede. E quindi, di conseguenza, quando il fianco qui comincia a vedersi, ebsynth non sa bene cosa fare e spalma un pochino i contenuti precedenti, uguale per il lato della faccia. Per quello sono arrivato fino al fotogramma 20. Infatti, se vado nella cartella del fotogramma 22, troverò il fotogramma 22, eccolo qui, che ha anche ricostruito all'indietro una sua versione del fotogramma 20. Vedete, questo è il fotogramma 20 creato a partire dal 4, e questo è il fotogramma 20 creato a partire dal 22. E, ovviamente, appunto, a seconda di quanto è difficile il vostro disegno di partenza, e di quante cose nascono, diciamo, che prima non erano visibili, il risultato può essere migliore o peggiore, e quindi, di conseguenza, dovrete fare di più o di meno di questi disegni chiave. In questo caso ne ho fatti un pochi, ma non tantissimi, insomma. Nel mio caso, ho realizzato questi 5 disegni chiave per il personaggio di sinistra, e 4, anzi, 3 disegni chiave per il personaggio di destra. Questo è il file di Clip Studio, dove avevo tenuto tutti su vari livelli. Vedete come ho lavorato? Ho il fotogramma, appunto, per esempio, 124, ho messo di sfondo la mia immagine, diciamo, adesso è anche piuttosto ridicola, e ho abbassato l'opacità per disegnarci sopra, e ho disegnato sopra il personaggio corrispondente, diciamo. Ovviamente deve corrispondere al fotogramma voluto, e così per il 96, per il 110, quindi li ho tenuti poi tutti su questo unico file, semplicemente per praticità. Potete utilizzare, io ho utilizzato qui Clip Studio Paint, ma con Photoshop si può fare la stessa cosa. Per lo sfondo, poi, ho creato una semplice scena in Blender, con un elemento già pronto, ho fatto un minimo movimento di camera, e l'ho renderizzato. Queste sono le immagini, il risultato del render, che ho fatto per tutta la lunghezza del filmato, e vedete questo è un render con l'oggetto ancora così com'era, renderizzato in EV molto alla svelta, perché anche questo l'ho poi dipinto in una seconda versione. Anche questo, a sinistra c'è la versione renderizzata, a destra c'è la versione dipinta, in realtà ho utilizzato un filtro di Clip Studio Paint, per non disegnarlo completamente, avrei potuto anche disegnarlo, diciamo, a mano. Però, anche qua, ho creato un unico keyframe, per il fotogramma 1, e quindi per lo sfondo stessa cosa, ho una cartella con tutti i fotogrammi originali, ho una cartella con il keyframe disegnato, che è uno solo, e il risultato di EbiSynth è l'animazione con tutti i fotogrammi, in cui la versione disegnata è stata fatta corrispondere al movimento, e siccome era un movimento di camera piuttosto piccolo, il risultato è buono, quasi fino alla fine, diciamo. A quel punto è bastato comporre il tutto, ho utilizzato sempre Blender come compositor, e quindi nei primi fotogrammi, se guardate appunto il personaggio a sinistra, a un certo punto comincia ad arrivare la parte, quella rovinata, però sfuma, perché ho composto sopra, e piano piano vedete in questo momento proprio la transizione, tra la versione, la seconda versione, quindi la parte del fotogramma 22, e poi anche questa andrà avanti per un po', fino a quando non viene composta con quest'altra, che è il risultato di quell'altro fotogramma chiave, quindi c'è, diciamo, questa sfocatura nel mezzo, e chiaramente ci sono tutti questi difetti, che si possono ridurre semplicemente disegnando più fotogrammi chiave, che comunque sono minori rispetto ai fotogrammi che bisognerebbe disegnare, diciamo, manualmente. In più, utilizzando Blender Grease Pencil, ho disegnato questi elementi grafici che vedete qui, che sono disegnati al volo in Blender, e animati giusto per avere questo effetto disegnato a mano successivamente. Con lo stesso metodo ho potuto ottenere quest'altro filmato, che potete trovare sulla mia pagina Instagram insieme ad un altro. Il filmato di partenza era un filmato fatto in strada, come un tombino, che si può vedere alla fine di questo, però ho sostituito le immagini con questa città futuristica, quindi questo è il filmato originale di semplice terreno e un tombino, e i disegni nei fotogrammi chiave mi hanno permesso di sostituire tutto questo con questa città, appunto, diciamo, futuristica, realizzata, in questo caso i disegni sono stati realizzati con l'aiuto di Stable Diffusion. Eventualmente su quello posso fare un'altra spiegazione in un altro momento, però, appunto, quello che ha gestito l'animazione è sempre Ebisynth. Vediamo un esempio pratico. Ho creato questa semplicissima scena in Blender con un minimo di animazione, di movimento di camera e di questa sfera che va a nascondersi dietro queste montagne. Come vedete è disegnato e scolpito tutto molto, molto approssimativamente. Ci ho messo 5 minuti. Come materiali ho utilizzato una Checker Texture in maniera che Ebisynth abbia dei dettagli ai quali aggrapparsi, diciamo, per riconoscere il movimento degli oggetti. Quindi ho messo dei colori finti, diciamo, e ho usato una Checker Texture sia per il Word che per gli oggetti. Scelgo PNG come formato di rendering, metto in una certa cartella un PNG RGB e lancio il render della scena. Alla fine mi ritrovo nella cartella tutti questi documenti, tutti questi file PNG, ognuno di essi è uno dei fotogrammi. Ne scelgo uno, ricordiamoci che Ebisynth va avanti e indietro, quindi magari, che ne so, prendo il 100 perché si trova più o meno in mezzo, tutti gli elementi ci sono, lo apro nel programma di disegno preferito da me e uso il fotogramma come riferimento e disegno sopra la mia versione dipinta. Vi risparmio la parte di disegno, però ho semplicemente disegnato esattamente sopra agli oggetti che si devono muovere e quindi questo è rapidamente un disegno che potrebbe corrispondere alla mia scena. Lo salvo in PNG, faccio una cartella apposta Keys vicino alla cartella che contiene il video e nella cartella Keys devo dare a questo file lo stesso nome del suo fotogramma dall'altra parte che era 100, video 0100, infatti eccolo qua che mi viene già proposto, video 0100, quindi deve avere lo stesso nome del fotogramma corrispondente nell'altra cartella. Salvo e poi procedo allo stesso modo anche per altri fotogrammi in cui magari voglio che le cose siano diverse, quindi che ne so, adesso prendo il 202, sempre per fare un esempio, nel quale il sole è quasi sparito e magari qua posso fare anche dei colori completamente diversi. L'ho realizzato di nuovo molto velocemente, scusate se sono davvero brutti, però è solo un esempio. Vado a salvare quest'altro come fotogramma 202. Quindi io adesso ho due cartelle, quella con il video originale che io ho fatto in Blender ma potrebbe essere anche un video appunto fatto col vostro cellulare, con una videocamera, con quello che volete, e poi dentro Keys ci sono esattamente con lo stesso nome il numero di fotogrammi che voi ritenete. A questo punto avete bisogno di EBSYNTH. Il modo più facile di usarlo è prendere la prima delle chiavi e portarla, trascinandola, qui all'interno di Keyframes e vedete che capisce già da solo tutti i nomi. Quindi dice la cartella Keys, vi mette la cartella del progetto, che è esattamente quella superiore e adesso dovete dargli anche il file del video. Potete sceglierne uno a caso perché come vedete qua è solo un pannellino pronto. E vedete ha già riconosciuto nella cartella delle chiavi Keys che ce n'è due e quindi ha compilato questa parte qua sotto dicendo che lui andrà dal fotogramma 1 al fotogramma 202 utilizzando il keyframe 100. Dopodiché ripartirà dal 100 e andrà fino al 250 ha riconosciuto quante ci sono dentro video usando il fotogramma 202. In questo modo avremo una sovrapposizione che va da 100 fino a 202 di fotogrammi che verranno generati sia qui che qua sotto. Comunque se voi voleste generarne qualcuno in più potete semplicemente cambiare. Cioè lui qui ha messo 202 perché qui c'è il keyframe successivo però voi potreste anche cambiarlo. E ha già preparato delle cartelle di output OUT0100, OUT0202 che verranno create qui a questo livello e che conterranno ognuna il risultato di queste. Potete far andare ognuno di questi separatamente come task oppure fare run all. Se voi dentro keys avete 4 o 5 key vi troverete 4 o 5 righe qua sotto. Compilatele eventualmente a mano se preferite qualcosa di diverso. Però vedete che usandolo così ha compilato tutto da solo. Faccio run all e aspetto. Come vedete sta creando le cartelle in questione ha creato la cartella OUT0100 dove metterà tutti i fotogrammi creati con il keyframe 100 e la cartella 202 dove metterà gli altri. Piano piano adesso vedrete queste barrette che si muovono e mano a mano che i file vengono creati. Infatti ecco già nella cartella 202 è stato creato il 202 e vedete che va avanti 202, 203, 204 e va anche indietro e fa il suo lavoro. Lo lasciamo fare e aspettiamo che sia arrivato in fondo. Ci mette qualche minuto dipende dalla velocità del vostro computer adesso che ha finito riappaiono i tasti Synth perché in realtà voi potete rifarlo quando volete. Adesso ho nella cartella tutti i fotogrammi creati appunto da EBSynth fino qua al 202 partendo dal 100 e nella cartella qui sono quelli infatti usando il 202. Quindi adesso devo solo montarli con un programma di editor video. Possiamo usare Blender. Se voi andate in New Video Editing possiamo usare Blender come editor video. Allora qua sotto ci sono le tracce. La scena è di 250 fotogrammi che sarà anche il nostro risultato finale a 25 fotogrammi al secondo. E per caricare le immagini potete procedere così. Potete fare aggiungi con maiuscolo A e scegliere Image Sequence. Nella vostra cartella entrate nella prima e selezionate tutto il risultato con la A e lui già da solo capisce tutto quanto e basta fare Add Image Strip. Ed ecco qua. Questo è il primo blocco e possiamo scorrere e vedere l'animazione. Ovviamente non è granché all'inizio. Avrei dovuto cominciare con un fotogramma 1. Noi abbiamo cominciato dal 100. Qua tra l'altro vedete il tempo. Se voi premete CTRL T potete vedere i fotogrammi. Ecco quindi il 100 è esattamente quello che abbiamo dipinto noi. Mano a mano che andiamo indietro si rovina sempre di più e invece mano a mano che andiamo avanti di nuovo torna a rovinarsi. Però noi abbiamo anche l'altro e quindi ci mettiamo nel punto in cui vogliamo cominciare. Siccome cominciano col 100 mi posiziono al 100 faccio Aggiungi di nuovo di nuovo Image Sequence e stavolta vado nell'altra cartella nella cartella dei 202. faccio Selezione a tutto e aggiungi ed eccola qua e arriva fino in fondo. Ovviamente adesso lo stacco è immediato però posso decidere invece di farlo da un certo punto in poi. Quindi mi metto per esempio qui alla fine di tutto posso fare tasto destro Fade Fade to Current Frame e adesso cosa succede? Che ha fatto un fade e quindi in pratica l'opacità la vedete qua che si muove l'opacità comincia da zero e piano piano quello nuovo va a sovrascrivere quello vecchio e quindi vedete adesso abbiamo il passaggio da una all'altra è fatto semplicemente con un fade possono esserci dei metodi migliori però adesso abbiamo ottenuto l'animazione ovviamente per esempio adesso è il momento nel quale ci accorgiamo di cose che non vanno bene per esempio mi accorgo che appunto avrei bisogno di disegnare un pochino anche quella dell'inizio la cosa buona è che adesso posso usare l'output di Ebisynth quindi vengo nella prima cartella prendo il fotogramma 1 e lo copio nella cartella delle chiavi adesso è l'1 e vado a editarlo lo apro nel mio programma di disegno e con gli strumenti che ho a disposizione lo correggo e lo miglioro una volta che ne ho una versione migliore anche adesso mi fermo salvate anche questa assicuratevi che il nome sia corretto come quello di tutti gli altri keyframe e possiamo tornare su Ebisynth e quindi aggiungere in questo caso lo aggiungo a mano dico di fare dallo step 1 con il keyframe 1 di arrivare al 100 e qua devo scrivere a mano dove fare l'uscita e quindi in questo caso creo la cartella che manca quindi creo la cartella out 0001 e posso premere select e selezionarla e lui già riempie anche il nome tra l'altro ho messo un po' troppi cancelletti ecco e quindi adesso posso fare sint solo di questo ora ha finito e ho la mia cartella out 001 con le nuove immagini generate da questo e quindi posso tornare nel mio file di montaggio usare un nuovo canale mi metto sempre sull'1 o anche il canale 2 comunque faccio aggiungi image sequence vado a prendere i nuovi fotogrammi eccola qui adesso questa se volete nasconderla momentaneamente potete premere h e appare quella sotto posso usare quella sotto e quella sopra ecco fino per esempio a qui perché da qui in poi questa qui magari funziona bene oppure insomma decidete voi per quanto utilizzarla anche fino alla fine io adesso magari solo per prova diciamo mi metto qui con alt h annullo il fatto di averla nascosta e quindi di nuovo da qui posso fare tasto destro e faccio fade fade to current frame no scusate annullo fade from current frame e quindi fino a qui vale quella sopra poi sfuma e passa quest'altra e poi all'altra altrimenti insomma potete trovare un'altra posizione migliore quindi da un certo momento in poi fade from current frame quindi trovate voi questo è solo un fade ovviamente potete fare maschere e altri modi migliori per mixare diciamo queste immagini se sapete utilizzare blender come video editor potete fare altre cose di compositing di cambio colori tutto quello che volete comunque adesso l'animazione c'è non riesce a mostrarmela esattamente a 25 fotogrammi al secondo va un po' più piano niente di grave la sto solo verificando così e adesso possiamo esportarla e quindi faccio render quando ho finito tutto quanto ho impostato tutto la cartella dove salvare il numero di fotogrammi al secondo il formato nel quale voglio che in questo caso è direttamente video e aspetto che che blender mi esporti o il vostro programma di editing video preferito non per forza blender ecco ora ho il mio file che contiene l'animazione ottenuta con solo tre disegni ovviamente più ne fate più il risultato migliora quindi c'è l'animazione che fa da guida quella che abbiamo fatto in blender molto semplice tra l'altro qua si nota ancora che rimangono un po' di questi cubettini del fatto che avevo usato la checker texture quindi forse magari invece di una checker texture era meglio qualcosa diciamo di diverso io l'ho fatto appunto un po' alla svelta magari una testurizzazione diversa l'importante è che ci siano dei dettagli che Abyssint sia in grado di seguire però insomma con soli tre disegni anzi con due disegni più una correzione ho ottenuto un'animazione pittorica con un risultato abbastanza accettabile in pochissimo tempo spero che sia stato utile grazie e alla prossima